Una luce da principio fioca che poi si irradia moltiplicandosi attraverso lo spazio, attraverso il tempo, nei cuori assetati di speranza. La madre di tutte le veglie, quella pasquale, ha preso il via, come da tradizione, con la benedizione del fuoco nell'atrio della Basilica Vaticana e con l'ingresso in processione scandito dall'Exultet. Il Signore veglia sul suo popolo, per renderlo libero lo fa passare attraverso il Mar Rosso, fa passare Gesù attraverso l'abisso della morte e degli inferi e ancora oggi veglia sui tanti drammi che sconvolgono l'umanità. Ma per comprendere questo amore senza confini, per fare proprio lo sgomento dinanzi a un sepolcro vuoto, per scorgere un giorno senza oscurità, l'uomo deve essere capace di entrare nel mistero. E non si tratta di uno sforzo intellettuale, ha chiarito Papa Francesco nel corso dell'Omelia, vuol dire essere capaci di stupore, di contemplazione, avere la capacità di ascoltare il silenzio in cui Dio ci parla. Per entrare nel mistero, ha detto il Pontefice, prima di impartire il battesimo e la cresima a dieci catecumeni provenienti anche da Cambogia, Albania, Portogallo e Kenya, bisogna non aver paura della realtà, andare oltre le proprie comode sicurezze, oltre la pigrizia e l'indifferenza che ci frenano e mettersi alla ricerca della verità, della bellezza e dell'amore. Per entrare nel mistero ci vuole umiltà, l'umiltà di abbassarsi, di scendere dal piedestallo del nostro io tanto orgoglioso, della nostra presunzione, l'umiltà di ridimensionarsi, riconoscendo quello che effettivamente siamo, delle creature con pregi ed effetti, dei peccatori bisognosi di perdono. Per entrare nel mistero ci vuole questo abbassamento che è impotenza, svuotamento delle proprie idolatrie, adorazione. Senza adorare non si può entrare nel mistero. Grazie a tutti.